Andiamo a vedere come trasformare in pochi e semplici gesti il trucco da giorno in trucco da San Valentino. Per la sera di San Valentino, se volete trasformare in pochissimi gesti i vostri occhi, vi consiglio di utilizzare Vamp Cream Eyeshadow. È un ombretto della texture cremosa fondente, veramente facile da sfumare e di grande effetto. Lo applico partendo dalla base delle ciglia, in maniera tale che rimanga molto molto intenso. Piano piano risalgo su tutta la palpebra mobile. Utilizzando il polpastrello andate a sfumarlo fra palpebra mobile e palpebra fissa. Vedete come in un solo gesso il trucco da giorno è diventato trucco da sera. Adesso utilizzo la matita nera e la applico sia sulla rimacigliare superiore che all'interno dell'occhio. Utilizzo l'applicatore di cui è fornita la matita per fonderla con l'ombretto in crema. Completo lo sguardo applicando il mascara Vamp nero. Anche se avevate applicato già il mascara nel vostro make up di giorno, potete applicare tranquillamente il Vamp Mascara proprio grazie alla sua formula ricca e cremosa. Dono colore e luminosità applicando sulle gote Like a Doll Luminous Blush. Per cambiare look alle labbra velocemente applico Miss Pupa che dona colore effetto glossato in trasparenza. Avete visto come in pochi gesti è possibile trasformare un trucco da giorno in un make up per un San Valentino da non dimenticare. Ciao!